sociali senza precedenti storici. Individuare quindi un percorso di recupero dei centri storici avrebbe anche un fattore quindi non solo di conservazione dei beni archeologici e di tutto quello che è il patrimonio, non solo di salvaguardia e messa in sicurezza nell'ambito del dissesto idrogeologico e della messa in sicurezza di questo patrimonio immobiliare, ma anche di rilancio di un settore strategico quale quello edilizio. Siamo certi che il Governo, io ne sono convinta insieme alla collega e insieme a tutti i parlamentari del PD calabrese, siamo certi che il Governo saprà fare la sua parte, che saprà attivare le sinergie istituzionali necessarie per recuperare un patrimonio culturale straordinario. C'è attesa nella comunità cosentina, sicuramente sappiamo bene che faranno la loro parte anche il Comune di Cosenza e la Regione Calabria. Grazie. La ringrazio. Passiamo ora all'interpellanza urgente 2.999 degli onorevoli Scotto ed altri su chiarimenti e iniziative in merito all'adozione di recenti disposizioni organizzative relative alle dotazioni di personale e al funzionamento del sistema scolastico in vista delle novità recate dal disegno di legge sulla cosiddetta buona scuola. L'onorevole Pannarale la illustra. Prego, onorevole Pannarale. Sì, grazie Presidente. Signor Sottosegretario, ancora una volta siamo costretti attraverso un atto di sindacato ispettivo a denunciare comportamenti del MIUR poco rispettosi delle procedure e delle prerogative del Parlamento. Ricorderò come opportuna premessa che in questo momento, al netto di ritardi, di rinvii, di confuse dichiarazioni a mezzo stampa, l'altro ramo del Parlamento, il Senato e alle prese con la seconda lettura del disegno di legge sulla buona scuola. Non capiamo cosa abbia in mente il Governo, mentre passano i giorni, le stabilizzazioni sono bloccate, la Commissione Cultura del Senato è sostanzialmente impossibilitata a procedere nei lavori. Quello che è certo è che la riforma sulla scuola non è ancora legge, aggiungo fortunatamente, per come è impostata, e che serviranno modifiche corpose e sostanziali affinché possa diventarlo senza ricorrere alle note forzature sul regolamento e sulle prerogative parlamentari. Nonostante questo disegno sia attualmente ancora oggetto di un iter legislativo tutto da svolgere, questo Governo e questo Ministero, il MIUR, hanno assunto nei primi giorni di giugno comportamenti illegittimi tesi già ad attuare e ad applicare le disposizioni contenute in un disegno di legge ancora in discussione e dunque soggetto a modifiche. Infatti in un incontro, diciamo così, riservato tenuto al MIUR il 3 giugno scorso con tutti i direttori degli uffici scolastici regionali, questi ultimi sarebbero stati invitati a individuare il fabbisogno di organico potenziato per il 2015-2016 in attuazione di quanto prevede l'articolo 2 del disegno di legge, così come approvato in prima lettura da questa Camera e attualmente all'esame della settima Commissione Cultura del Senato. In sostanza l'obiettivo di questa riunione era quello di portarsi avanti con il lavoro in previsione dell'attuazione della riforma, ma confermando ancora l'assoluta indisponibilità del Governo all'ascolto e a modifiche che possano rispondere alle domande pressanti di tutto il mondo della scuola. Da un lato quindi un Governo che frena e rallenta i lavori al Senato, dopo aver imposto qui alla Camera una discussione approssimativa e frettolosa, dall'altro lo stesso Governo che senza riferimenti normativi e di merito certi e soprattutto definitivi, nelle stanze del Ministero prova precipitosamente e illegittimamente ad attuare norme transitorie che potranno essere superate dall'iter parlamentare in corso. Sulla scorta di questa riunione, infatti, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, devo dire con tempestiva solerzia, ha diramato a tutti i dirigenti scolastici della Regione una circolare nella quale i dirigenti venivano invitati a trasmettere ai rispettivi ambiti territoriali, quindi parliamo di un punto che è oggetto di grande dibattito e di grande conflittualità nella riforma, entrano in oltre il 20 giugno la relativa proposta di organico potenziato utilizzando la scheda legata. Una circolare che sappiamo essere stata poi ritirata anche a seguito della nota di protesta dell'8 giugno delle organizzazioni sindacali. Non è finita qui, Sottosegretario. Il 10 giugno alle stesse organizzazioni sindacali della scuola sono costretti ad inviare un ulteriore comunicato di protesta al MIUR che due giorni prima aveva diramato agli uffici scolastici periferici a tutte le scuole una nota ministeriale relativa all'organico del personale ATA per il 2015-2016, nella quale si anticipano i nuovi e peggiorativi parametri di calcolo sull'organico alla luce degli ulteriori tagli che sono stati introdotti dalla legge di stabilità 2015 senza aver prima convocato il tavolo di confronto per la prevista informativa sindacale come previsto dall'articolo 5,2 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Anche in questo caso siamo alle prese con un Ministero che disattende comportamenti e procedure definiti dalla normativa vigente e che nel caso specifico mostra di considerare addirittura superata tale normativa come se l'articolo 24 della riforma, il pessimo articolo che deroga al contratto collettivo nazionale di lavoro, fosse già norma definitiva. E' la stessa logica e rispettosa delle istituzioni e della salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati dei lavoratori e dei lavoratrici che rintracciamo ancora, come raccontiamo nella nostra interpellanza, nella circolare del 5 giugno dell'Istituto Professionale di Amicis di Roma, avente per oggetto condotta in occasione di eventuali adesioni a scioperi. In questa circolare il dirigente scolastico, sulla base di disposizioni organizzative sue personali e di una normativa a quanto pare altrettanto personale, comunica al personale docente e al personale ATA che non intenda presenziare allo strutinio l'obbligo di comunicare preventivamente l'adesione allo sciopero e il fatto che la sostituzione del personale in sciopero non costituirebbe comportamento antisindacale. Allora, sottosegretario, penso ci siano a questo punto elementi sufficienti per chiederle intanto come sia possibile che il MIUR sia stato tanto disattento da non aver predisposto l'immediato ritiro di una circolare così lesiva dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ancora come si intenda procedere riguardo la circolare che riguarda dagli organici del personale ATA che peraltro è stata emanata in assenza di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità e soprattutto sottosegretario sarebbe davvero urgente capire come e se questo governo e questo ministero nello specifico intendano finalmente procedere per garantire il rispetto della normativa vigente e delle prerogative costituzionali del Parlamento. La ringrazio, onorevole Pannarale. Sottosegretario Giacomelli ha facoltà di rispondere. Prego. In merito a quanto rappresentato nell'atto voglio precisare preliminamente che il Ministero dell'Istruzione non ha fornito alcuna indicazione circa l'emanazione dei circolari sulla rilevanza del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione attualmente all'esame della competente Commissione del Senato. La riunione svoltasi nella sede centrale del MIUR a cui si fa esplicito riferimento rientra la verità nell'ambito di una ordinaria costante interlocuzione fra l'amministrazione centrale degli uffici periferici. Questa riunione, a carattere meramente informativo, si è tenuta nella piena consapevolezza di un interparlamentare in atto, ma anche nell'altrettanto forte consapevolezza dell'esigenza di fornire... ... ...